Conferenza stampa questa mattina ad Ortona del sindaco Leo Castiglione che ha ritirato le sue dimissioni. L'azzeramento della sua giunta, ha ricordato Castiglione, era stato chiesto dai tre consiglieri, Simona Rabottini, Tagliacocco, Antonio Sorgetti, che hanno anche dato vita al gruppo Città, che amo, ma dopo due incontri non si è raggiunta l'intesa. Agli ortonesi, ha sempre detto Castiglione, non interessa il teatrino della vecchia politica, ma affrontare le priorità per il bene della città. Sindaco Leo Castiglione, dunque, ritira le dimissioni e conferma la sua giunta. Sì, certamente, perché il problema politico sollevato riguardava la mia maggioranza, una maggioranza che non ha trovato comunione di intenti in una ricompattezza, e quindi confermo la giunta che ha lavorato bene e che merita tutto il rispetto del sottoscritto e della città. Logicamente, questo significa che il gruppo nuovo Città, che amo, è fuori dalla maggioranza e l'invito che faccio, logicamente, ridando il potere al Consiglio Comunale, quello di mettere a primo posto il senso di responsabilità, mettere a primo posto il bene della città, anche uscendo dalle appartenenze, soprattutto in questo momento in cui rischieremo di lasciare la città per un anno in mano al commissario. Ecco, dove troverà i numeri in Consiglio Comunale, visto che ci sono tre consiglieri che lei vede fuori dalla maggioranza? Certamente, il primo atto, il prossimo, sarà il bilancio. Là sarà la prova del nove, ma noi siamo sereni perché confidiamo nel senso di responsabilità, come ho detto, di tutti i consiglieri comunali e discuteremo in aula del bilancio e valuteremo poi quelle che sono le posizioni e eventualmente trovare la sintesi per far sì che questa città abbia un bilancio che è necessario per cominciare da subito per l'organizzazione del Giro d'Italia, quindi non possiamo aspettare.